Serena Finocchio, candidata a presidente al municipio Nono, e cioè il municipio di Levante. Grazie di essere con noi. Una donna, il che in un'epoca in cui si passi è molto discusso, quote rosa, non quote rosa, non è che sono tante le quote rosa, candidate a presidente di municipio. Come mai? Eh, come mai? Perché noi abitiamo in un'epoca in cui l'uomo mediocre va sempre bene, invece noi donne dobbiamo essere sempre l'eccellenza. E quindi è difficile riuscire a sovverchiare e andare oltre questi uomini mediocri. Quindi noi siamo donne volenterose. Credo di averla già sentita a casa questa cosa, quindi sì, sicuramente molto diffusa. Però hanno scelto una candidata donna per un compito comunque non facile sulla carta, perché sappiamo benissimo che la città è divisa, come tutte, in ispirazioni elettorali di un tipo o di un altro, e il Levante storicamente non è un municipio facile per voi. Allora, il municipio Levante è uno dei più grandi per estensione, nel senso che presenta problemi della costa, quindi problemi del litorale, le mareggiate, ma abbiamo anche tutti i problemi dell'entroterra. Quindi abbiamo i problemi degli incendi su Monte Fasce, i problemi delle crese, i problemi di raggiungere anche certe abitazioni, sia con le ambulanze, sia anche per la captazione delle acque e anche della rete fognaria, che manca in alcuni appartamenti. Quindi abbiamo veramente un terreno variegato. Sicuramente è interessante lavorare con quartieri diversi, perché ognuno ha delle esigenze diverse. Il municipio Levante in realtà si è sempre alternato tra sinistra e destra, quindi adesso la destra è uscente, quindi speriamo che si possa... Posso di nuovo toccare a voi? Quali sono le leve che cercherà di toccare, diciamo, nella comunità per risultare vincitrice? Quali sono i temi, secondo lei? Ora, trenemo nella ZTL, tanto quella, se ci fanno entrare, ne parliamo. Però, al di là di questo, ovviamente ci saranno tante altre cose. Allora, secondo me la ricetta è ascoltare il territorio, creare rete con le persone e farsi vedere nei quartieri, perché in questi cinque anni, devo dire, che non si sono ascoltati i cittadini, non si sono ascoltate le loro esigenze e è mancato un pochettino la figura. Questo non lo dico io, ma è quello che mi viene detto dai cittadini quando l'incontro. Quindi si sono sentiti un po' esclusi da questa circoscrizione, perché non erano protagonisti e tutte le decisioni, come quella dello ZTL, è stata imposta senza lavorare con i cittadini. Noi, per esempio, in un municipio, come opposizione, abbiamo fatto molta fatica, perché tutte le informazioni le prendevamo o dai giornali o dalle assemblee pubbliche. Quindi noi, come organo, non venevamo minimamente considerati. E questo è un male, perché su una politica territoriale bisogna lavorare in sinergia, perché poi il bene è quello del territorio e questo è completamente mancato in questi cinque anni. Quindi voi promettete maggiore ascolto, maggiore considerazione dell'istanza delle persone? No, non è una promessa. È così. Nel senso che io ho girato mercati, ho girato bocciofile, ho girato civ, ho incontrato persone, ho dato ascolto a chiunque, perché comunque bisogna ascoltare i cittadini. È questo il vero fulcro e l'essenza del presidente di un municipio, cioè lavorare con i cittadini. Noi siamo delle sentinelle. Infatti nella mia coalizione ho cercato tutte persone di quartieri diversi, perché io non posso essere presente in tutti i quartieri. Ho bisogno di persone che abitano in quel quartiere e che mi possano riferire i problemi di quel quartiere. ZTL, perché non vi piace tanto? Allora, partiamo dal fatto che è stato un fallimento assoluto. I residenti e i commercianti non sono minimamente soddisfatti. Se andiamo in percentuale su 10, 7 sono insoddisfatti, 3 magari sono contenti. Però la maggior parte delle persone non sono soddisfatti, intanto principalmente perché non è uno ZTL, quindi chiunque può passare e non c'è controllo. C'è un problema che comunque anche l'autobus che passa ha poco traffico e le persone non vanno più a fare shopping a Nervi, perché prima ricordiamo che c'era il 15 che faceva capolineo in Viale Franchine, adesso questo non c'è più. Quindi anche la signora che andava fino a Nervi, andava alle poste, andava a fare due spese, adesso non va più. Quindi hanno avuto un callo di personale. Come dicevi giustamente, è che tu prima tu non ci sei ancora stato, perché è una cosa che non si conosce, si ha paura di andare a Nervi, perché non si sa poi come uscire dalla viabilità di Nervi stessa e quindi le persone non ci vanno più. Quindi c'è stato un callo drastico dei fatturati che arrivano al 40, al 60 e addirittura ci sono degli esercizi che hanno dato fallimento. Quindi questo non è una cosa positiva, nel senso che secondo me a volte bisogna fare anche un passo indietro. La viabilità va rivista totalmente. Questo è stato proprio un crollo. E pensate che, facciamo un'ipotesi, che nel comune rivinca Bucci e che invece nel municipio Levante rinca il centro-sinistra, come si potrà arrivare ad una rinegoziazione dal vostro punto di vista di questa ZDL? Allora, io sono una persona molto tenace, quindi parlerò con Bucci e cercherò di trovare una soluzione assieme a lui per riuscire a creare una viabilità che vada almeno bene per la maggior parte. Questa non va bene per nessuno. Comunque non ci sono controlli. Quindi comunque chiunque passa, passano anche più veloci, perché comunque non c'è controllo. E paradossalmente nella mente delle persone, visto che prima via Oberdan si faceva dall'alto al basso, le persone non sono abituate a trovarsi l'autobus e le macchine di schiena. Quindi comunque c'è un pericolo, non è una zona pedonale. Si fa riferimento all'agenda 2030, ma non ha niente dell'agenda 2030. Cioè ci sono degli obiettivi e dei goal che vanno seguiti, ma questi non li seguono. Quindi non va bene fatta così. Secondo me è stata fatta troppo velocemente. Poteva anche essere una buona idea, ma doveva essere studiata assieme ai cittadini. Sicurezza è stato uno dei grandi temi della campagna elettorale in linea generale. Si parla molto della movida, si parla molto della mala movida. Qual è la situazione del Levante e quali sono i vostri obiettivi su questo? Allora c'è stato da poco, penso che tu abbia letto anche i giornali, tutto il problema di quello che dicono rave, festa che è successo a Quinto. E anche di una certa criminalità un po' stanziale che qualche problema lo crea. Allora il problema non è tanto la movida, ma cercare di capire e aiutare i ragazzi. Nel senso che sicuramente il problema della movida va arginato, ma bisogna dare delle alternative. Noi siamo una società che pensa tanto agli anziani, ma poco ai giovani. Se noi non diamo alternative, come quello dell'altra sera che ha portato 2000 ragazzi a Quinto, che sono troppi, ma creiamo un evento a Sturla, uno a quarto, uno a quinto, uno a nervi, i ragazzi si dividono e non abbiamo più queste branchi di persone che si focalizzano solo su un evento. Quindi bisognerebbe creare proprio un tessuto di movida. E questo manca, perché la repressione, quindi se io comunque faccio venire l'esercito, i carabinieri, si sposano da quinto, ma poi vanno a quarto. Cioè non è che così facendo risolvi il problema. Cioè il problema esiste e bisogna affrontarlo. Bisogna anche capire che usciamo da due anni di pandemia. Quindi secondo me questi ragazzi hanno proprio bisogno di qualcosa e bisogna creare degli spazi per loro che adesso sono totalmente assenti. A Genova, l'abbiamo visto anche stasera in qualche conversazione con altri candidati, c'è un po' l'idea di una divisione Levante-Ponente. A Levante siete ricchi, state bene, avete tutte le cose belle, mentre a Ponente ci hanno solo servitù e porto e inquinamento. Intanto chiedo se vi sentite veramente così privilegiati e soprattutto qual è la vocazione di quell'area. Perché si potrebbe quasi dire, un critico potrebbe dire sì, però il PSA a Pra è uno dei più grandi terminal, anzi forse è il più grande terminal portuale italiano e porta centinaia di milioni di euro di indotto sulla città di Genova. Voi dovreste essere allora il cuore del turismo, dei musei e dell'offerta ricettiva della città. Voi lo svolgete questo compito? Allora, ti ringrazio per l'assisto perché è sicuramente un punto del mio programma. Quindi quello che a me proprio interessa è aumentare... Leggo sempre tutti i programmi dei candidati. Immagino. Allora, io punto molto sul turismo, però bisogna lavorare sul turismo. A Nervi per esempio c'è un polo museale come la GAM, la Luxoro, la Wolfognano, però è fuori dalla rete museale all'interno di Genova, quindi bisognerebbe spingere il turista ad andare a Nervi. Adesso noi abbiamo un turista che fa un mordi e fuggi, viene per una mostra, poi scappa, va a vedere l'acquario. Io parlo con tutti i miei amici che non vivono a Genova e mi dicono c'è l'acquario, cioè non c'è questa cultura del museo del turismo. Noi dobbiamo lavorare su questo, ma non solo sui musei. C'è anche tutto quello che può essere chiamato il turismo aria blu, quindi tutto quello che riguarda il nautico. Quindi noi abbiamo un sacco di associazioni che possono lavorare sul turismo come il canottaggio, windsurf, la vela. Insomma, abbiamo tantissimi sport che possono lavorare sul canottaggio, fare anche i pali blu, delle passeggiate, l'apnea che l'abbiamo già fatto. E in più, secondo me, un'altra cosa da valorizzare, perché come dicevo prima, il Levante va sia sul litorale che sull'entroterra, è riportare tutti i sentieri del trekking, che siamo pieni di sentieri importantissimi, bellissimi, che da mare ti portano a monte. Quindi anche lavorare su queste realtà, quindi creare delle mappature, creare anche semplicemente un'app dove puoi trovare tutte le informazioni, è molto utile. Quindi io lavorerei su queste cose qua. E per adesso, in questi cinque anni, devo dire che non si è lavorato. Bene, votate chi vi pare, ma andate a vedere la Wolfsoniana, che secondo me è un museo bellissimo. E in generale, insomma, bocca al lupo, naturalmente, i candidati. Viva il lupo, viva sempre. Grazie mille alla candidata presidente del municipio Nono Levante per il centro-sinistra, Serena Finocchio. Bocca al lupo, naturalmente, si vota il 12 di giugno dalle 7 alle 23. Mi raccomando, andate tutti a votare, l'importante è votare. Eh, questo è vero. È vero. Perché c'è chi ha lottato per avere il diritto al voto, quindi mi raccomando, abbiamo tanta stensione, tanti incerti, siamo sul 40-50%, quindi mi raccomando, andate a votare perché è un diritto sacrosanto.